Le Iene hanno fatto un nuovo colpo, hanno fatto un video, un servizio su noi bodybuilder che sta facendo incazzare un po' tutti quanti, me ne rendo conto, quindi oggi voglio parlarvi di questo servizio facendovi incazzare anche io probabilmente, quindi vi chiedo di seguire il video fino alla fine perché soprattutto la parte finale sarà molto molto importante. Introduzione, le Iene cosa hanno fatto? Hanno fatto un servizio sul bodybuilding dove il focus è stato dato a soggetti che utilizzavano il Sintol, in qualche modo facendoli passare per bodybuilder. La cosa che più fa incazzare è che dal nostro punto di vista chi utilizza il Sintol e quindi logicamente non gareggia non è un bodybuilder, è come prendere una persona che dà calcio a calcio un pallone al parco senza senso e dire a un calciatore. Non è così, logicamente stai dando un'immagine falsata. Però ragazzi, le Iene fanno questo, danno un angolo di un qualsiasi settore, cioè quello è il ruolo della trasmissione televisiva, del giornalismo, è il motivo per cui le eseguiamo. Cioè danno un certo angolo molto spinoso di alcuni settori per mettere in luce delle problematiche. Ora, discorso del Sintol, la prima cosa che emerge nel primo profilo è il discorso della fisicità. Ossia, va bene ragazzi tutti strani con quelli che hanno esagerato e tutto il resto, il focus si è poi spostato nella trasmissione su questo ragazzo Eros che utilizza molto probabilmente Sintol, poi non si sa, lui dice di no, però ha una muscolatura che richiama molto l'utilizzo del Sintol. Mettiamolo così. Apparentemente questo emerge ai nostri occhi. E logicamente l'immagine che viene data è quello è il bodybuilder che è il bodybuilder, tra virgolette professionista. Questo è un po' il tema, no? Delle iene e del servizio. E la prima domanda che vi faccio è, a noi risulta palese, ok? Che ha questo tipo di fisicità molto diversa da quella che può essere una fisicità di un bodybuilder professionista, di un presti, di un muzzi, di chi vi pare. Ma siete sicuri che per le persone normalmente è veramente così? Cioè siete sicuri che a vedere il fisico di questo ragazzo e vedere il fisico che può avere un professionista magari in off-season ci sia così tanta differenza? Secondo me no. Il bodybuilding è un freak show, no? Io personalmente mi emoziono a vedere un bodybuilder professionista che ha una certa simmetria, una certa apertura dorsale, certe pose di alcuni atleti. Sono fantastiche. Dico che bello, mamma mia, poesia. Ma le persone normalmente no, sono dei freak. Quindi noi vediamo la differenza, le persone normalmente no. Quindi è inutile che ci scandalizziamo. È un freak show? Lo sappiamo che è un freak show. Se no, facciamo i modelli. Il secondo profilo è quello che molti hanno scritto ignorante, cioè hanno dato un'immagine del bodybuilding ignorante, eccetera, da persone che non fanno bodybuilding. Ora, secondo me il fatto che una persona abbia semplicemente un accento forte, in questo caso siculo, non denota ignoranza di per sé. Anzi, cioè un po' si è impappinato davanti alla camera, è emozionato, ci sta come discorso. Probabilmente tutti voi che avete scritto, la maggior parte delle persone che hanno scritto, hanno invasate, incazzate e tutto il resto, se arrivano gli ene, ti puntano nella camera, non metti due parole in croce, quindi è inutile che fai, ah, questo ignorante non rappresenta, non testimonia, eccetera, eccetera. Quindi fondamentalmente questo è un discorso che cade, anzi, sinceramente io non ho trovato le cose che sono state dette come cose diverse, ignoranti o sbagliate. Arriviamo quindi al terzo punto, quello su cui poi si è focalizzato il servizio, che è il motivo per cui le iene danno quest'angolo e hanno dato quest'angolo, questo spunto. Ossia il fatto che Eros ha detto, è stato chiesto, tu sai che rischi la vita con gli anabolizzanti? E Eros, il ragazzo, ha detto, se tu hai la passione per la moto, pure te con la moto rischi la vita, no? Cioè, per vivere la tua passione c'è il rischio, ha fatto un ragionamento che ci sta. Io ho una mia passione, tutti i rischi, mettiamo i rischi di salute, i rischi penali, quello che cazzo mi pare, io la vivo, ok? Con il discorso delle moto, un professionista ha un certo tasso di rischio di vita, ok? Ci sta come discorso questo qua. Di nuovo, non mettiamoci a dire, ah, non puoi paragonare, fare perché è illegale, eccetera, lo sappiamo. C'è consapevolezza, ecco, mettiamola così. La consapevolezza è una cosa importante, non ha detto, ah, no, ma è tutto un gigantito perché in realtà si può fare salutare. C'è stata consapevolezza, i coglioni. E l'altro discorso gli è stato chiesto perché non smette, eccetera, dice, quando hai guidato una Ferrari non puoi tornare a una 500. Quanti ragazzi io ho conosciuto, vedendo un pane lematico o parlando e chiacchierando dicendo, ti devi fermare. Cioè, devi fermarti. Questo non va bene, questo che leggi. Non stai bene, non stai in salute. E le persone non si fermavano. Cioè, non è una cosa, poi non tutti, non voglio fare un discorso di tutti, ma è un qualcosa che esiste. Cioè, ragazzi, non sta dicendo una cazzata, non rappresenta in maniera così assurda il nostro settore, che è il motivo per cui cerchiamo di fare un certo tipo di informazione. Quindi, io so che questo fa incazzare molti. Però, ragazzi, non è che hanno dato un'immagine assurda, ok? A parte il focus sui sintolati iniziali, che non c'entra un cazzo col bodybuilding. Però, ok, il discorso si chintola, eccetera, però ce sta, ok? Ora, detto questo, voglio arrivare alle conclusioni. Perché voglio arrivare alle conclusioni? Perché sono dell'idea che, anche se l'immagine che è stata data non mi è piaciuta, io non è che mi incazzo con le iene, eccetera, perché loro fanno il loro lavoro in linea con quello che è la natura della trasmissione. Allora io dico, ma noi, bodybuilder, o noi nel settore in generale, cosa possiamo fare? E cosa stiamo facendo? Cerchiamo di trarre delle conclusioni importanti per noi, per muoverci. E quello che possiamo fare è sicuramente continuare a investire il più possibile sull'informazione, sulla divulgazione, sul portare quanto più cultura, portare quanto più confronto possibile. Ci si sta già muovendo, si stanno ottenendo grandi cose in Italia da questo punto di vista. Possiamo farlo meglio. Accettiamolo come un'immagine, uno screenshot di quello che è il nostro settore, agli occhi di qualcuno, di molto esterno, e cerchiamo di ragionare su come migliorarlo, portando sempre più cultura, portando sempre più informazione e cercando di farlo uscire il più possibile dalla nittia e dal ghetto. E accettando, perché vanno accettate, quelli che sono degli elementi critici, che ci sono inutili e che ci nascondiamo dietro un delito. È un freak show, c'è di mezzo l'utilizzo di sostanze anabolizzanti in alcuni circuiti, in alcuni casi, che in Italia è illegale, eccetera, eccetera, eccetera. Le sappiamo, non vi incazzate. Semplicemente questo. Aspetto le vostre considerazioni qua sotto, fatemi sapere che ne pensate.